E hanno inventato il water basket, ovvero giocano a pallacanestro nell'acqua. Quindi hanno fuso i due sport. Che ne pensa? Anche se non l'ha mai vista. Dentro l'acqua, ma non so notare. Noto, sto a galla, alla canina, però non è che so notatore. Basket, dentro l'acqua. C'è questo nuovo sport, il water basket, che sta prendendo piede adesso, in questo momento. No, io non lo conosco. Ma è una battuta? No, no, esiste veramente. È vero? Non so. Ti interessa? Ti interesserebbe provare una volta? Io? Sì. Perché grazie. Sono 70 anni, cercavo un più giovane. Lo conosci il water basket? No. Prova ingiovinare che sport tu è. Sei un nuovo sport che sta prendendo piede questo. Water basket, quindi? Water basket. Due parole. Water, acqua, water, basket. Water, hot, basket. Acqua, acqua. Quindi, fiscina. Fiscina. E falla canestro. Quindi, che sport vuoi essere? Lui è un esperto. Sì, sì. È un esperto di water basket. Lo chiediamo? Ali. Ali, lo conosci il water basket, Ali? Come no, Ali? Ti... Finito? No. È un esperto. È un esperto. Grazie a tutti. No. Fate.